Il calcio biscegliese finisce nel mirino della procura di Trani, che nel suo avviso di conclusione delle indagini sulla gestione dello stadio Ventura solleva più di un dubbio sulla regolarità degli atti che hanno portato negli ultimi anni all'affidamento dell'impianto senza gara pubblica e alla concessione di contributi comunali alla società polisportiva Bisceglie 1913 Donunva. Finiscono nel registro degli indagati con l'accusa di abuso d'ufficio l'ex sindaco Francesco Spina, il presidente della squadra dal 2013 al 2016 Nicola Canonico, il suo successore Silvestro Carbotti e il dirigente comunale della ripartizione cultura Gennaro Sinisi. A partire dal 2013, secondo l'accusa sostenuta dal PM Simona Merra, la società calcistica avrebbe beneficiato non solo di proroghe dell'affidamento dello stadio Ventura, ma anche di contributi straordinari da parte del comune quantificati in 120.000 euro per la stagione 2013-2014, in 90.000 euro per i due campionati successivi e di nuovo in 120.000 euro per l'annata 2016-2017, che poi coincise con la conquista della promozione in Serie C. Ma per la procura di Trani l'affidamento in concessione dello stadio poteva avvenire solo con evidenza a procedura pubblica. La colpa di Spina sarebbe di aver avallato, con delibere di giunta, un indirizzo politico favorevole alla proroga della convenzione e alla concessione di contributi pubblici alla società affidataria dell'impianto, senza valutare se tali decisioni avrebbero potuto arrecare danni alle casse comunali, così come ipotizzato dalla magistratura tranese. La società sportiva avrebbe quindi beneficiato, senza averne diritto, dell'elargizione di complessivi 420.000 euro da parte del comune, dell'esenzione dal pagamento delle tariffe previste per l'uso dello stadio e del riconoscimento dei proventi derivanti dalla gestione dell'impianto.